Allora, insieme al Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti. Governatore, al primo colpo Giuseppe Raffa, Presidente della provincia? Al primo colpo dobbiamo vincere per dimostrare che in questa parte di territorio la classe dirigente che mette in campo il centro-destra, una classe dirigente di qualità, è in grado di dare risposte importanti al territorio. Quindi questo è il nostro obiettivo, riuscire a vincere e continuare a governare, perché questo centro-destra offre sicuramente un gruppo dirigente in grado di guidare una comunità come quella della provincia di Reggio Calabria, con Peppe Raffa, così come al comune con Demiarena. Quindi siamo un tandem, una squadra, un gruppo che si pone all'attenzione dei cittadini, sapendo quali sono le problematiche dei territori, le problematiche di questa fase storica, anche legata alla crisi e tutto il resto, però abbiamo le carte in regola per essere credibili e vincenti. Grazie.